Una tavoletta grafica senza schermo. A chi si rivolge un prodotto di questo tipo? Ai disegnatori esperti? O ai principianti? Oggi siamo circondati da iPad, tavolette grafiche con schermi incorporati. Sì, circondati quando entri in negozio, ma rimangono lì, costano un sacco. Ugi, spero di pronunciarlo bene, mi ha gentilmente regalato la tavoletta M708, 10x6 pollici. E allora, incuriosita, mi sono subito messa all'opera per vedere se uno strumento come questo, di fascia di prezzo bassa, bassissima, possa ancora soddisfare le esigenze di un disegnatore digitale, o alle prime armi, come capitò a me vent'anni fa, oppure ormai abituato a disegnare con iPad o tavolette molto più performanti e costose. Ma vediamo subito com'è andata, a partire dal pacco. Eccola qua. Pesante, non me l'aspettavo. Vero è che comunque è pensata per appoggiarla sul tavolo e non da tenere sulle gambe. Diciamo che è un fattore da tenere in considerazione se la devi utilizzare spesso in viaggio. Per tanti anni ho fatto la pendolare e mi ricordo che portavo la mia tavoletta grafica a destra e a sinistra. e tra questa ed un eventuale computer cominci a trasportare un peso un po' importante. Comunque è una considerazione così. Cos'è che c'è scritto? Ok, dopo tolgo le varie plastichine di protezione. Andiamo avanti e vediamo cosa c'è nel pacco. Visita il sito per scaricare i driver e per farla funzionare. Ok. Ah che bella cartuccera di punte. 8 punte di ricambio. Quindi con quella in dotazione siamo a 9. Non so ancora dire se è pura generosità o ce ne siano tante perché si danneggiano velocemente. Magari su questo aggiornatemi o aggiorniamoci. Se qualcuno sa qualcosa io non posso rispondere adesso perché la devo mettere alla prova. In genere me ne sono sempre ritrovata due al massimo di punte. E comunque ho anche fatto fatica a cambiarle nel senso che una punta per me è infinita. Pur avendo una mano pesante. Però questa marca io non l'ho mai provata quindi la devo testare. L'anellino centrale con la scala natura serve per aiutare l'estrazione della punta da sostituire. Ah ecco perché danno tante punte. Se le lanci... Un bell'oggettino mi piace. La forma che ricorda il calamaio lo rende un bel portapenna elegante da tenere sulla schivania. Mi ricorda quando inchiostravo le tavole con il pennino e la china. Ok lo chiudiamo e adesso andiamo al pezzo forte. Alla penna. Una penna senza stilo, senza batteria. Pratica come piace a me. Quelle con le batterie da cambiare le ho sempre rifiutate. Scomode emettono anche ansia. Hai sempre paura che ti finisca no? E che tu le debba cambiare. Aspetta ma la penna? No! Dov'è la penna? Non mi dire che si sono dimenticati la penna. Ecco si parlava di ansia. Dov'è la penna? No ma dai non ci posso credere. Uh eccola! Si era nascosta. Ci danno anche il guantino antiscivolo forte. Perfetto! E ho anche le mani grandi. Adesso vediamo una penna che mi ha fatto venire un coccolone. Leggera. L'impugnatura non è ergonomica e a sezione cilindrica. Ma mi sento già a mio agio. E poi lo ricordo. Niente batterie stile al suo interno. Quindi niente sbilanciamenti o pesantezza. E non ha neanche bisogno di ricaricarsi. Si interfaccia con la tavoletta per i fatti suoi da subito. Qui c'è il libretto di istruzioni. Tra un po' vediamo l'installazione e la configurazione. Che sarà molto semplice e lineare. È il cavetto micro USB. Andiamo subito a metterla alla prova. Perché il design mi piace. È accattivante. Ma vediamo se risponde bene al disegno. Che è la cosa più importante. Installiamo subito il driver. Nel libretto di istruzioni troverai i semplici passaggi da compiere. Vai sul sito ugi.net e scarichi il driver più recente. In base a che tu abbia Mac o PC. Una volta scaricato decomprimi e installi. Dopo averla installata vado a configurarla. Configurerò sia la penna che i tasti funzione. Prima però imposto subito l'area attiva. Nel caso tu abbia necessità di lavorare con due monitor o scegliere una porzione puoi farlo. Io lascio lo schermo intero da default. Poi passo alla penna. Ai tastini funzione. In realtà a me servirà solo il tasto destro per cambiare velocemente i pennelli. Ovviamente ognuno se li personalizza come meglio crede. L'idea è quella di velocizzare il lavoro. A me personalmente questi tasti danno sempre un po' fastidio. Finisco col prenderci contro per sbaglio. Ma si possono anche disattivare. No problem. Poi in base alla nostra manualità possiamo impostare la pressione e la velocità di scorrimento su monitor. Più difficile a dirsi che farsi. Fai delle prove di scrittura o di segni e capirai subito come impostarla a seconda del tuo approccio al disegno o alla scrittura. Ok, adesso vado a personalizzare qualche tasto rapido. Quei tasti che mi ritrovo sulla parte sinistra della tavoletta. A proposito, la tavoletta può essere girata di 180 gradi nel caso la utilizzino persone mancine. Ok, tornando alle funzioni tasti, qua inserirò i comandi che mi faranno più comodo. Imposto il software al quale fare riferimento, nel mio caso Photoshop, e mi programmo le scelte rapide che mi potranno servire mentre sarò intenta a lavorare. Sicuramente un bel comand Z, quindi un passo indietro. Proviamolo subito. E lo zoom. E così via. Sceglierai tu cosa ti farà più comodo. Ok, subito pronta per sperimentarla a fondo. Per prima cosa, vediamo come si comporta a livello gestuale. Si riconosce le inclinazioni e le pressioni della mano. La prima prova la supera alla grande. Sento che c'è feeling. La tavoletta rileva perfettamente l'inclinazione della penna, la pressione, e non percepisco ritardi nei tratti. Si riescono a fare dei movimenti molto naturali. I livelli di pressione di questa tavoletta sono 8192. Non male. Con un RPS di 266. Quindi ottima fluidità. Nessun ritardo. Poi la testo con un foglio di carta tra tavoletta e penna. Come se volessi ricalcare un disegno. Basta scorrere la penna sul disegno precedentemente realizzato su carta, posizionare il disegno sulla tavoletta, e fare scorrere la penna sui tratti. Me lo sta riportando con molta fluidità. Bene. La UG M708 è una tavoletta entry level, molto basic, ma devo dire che mi sta piacevolmente stupendo. A onor del vero, devo dire anche che sono molto abituata a disegnare un po' con tutto. Però devo anche dire che quando uno strumento mi impedisce di lavorare come voglio io, lo elimino subito, perché lo troverei frustrante. Fino adesso la considero un'ottima tavoletta che consiglierei a chi vuole partire e non vuole spendere tantissimo, che non guasta mai. I tratti e i movimenti sono fluidi, sia su stili più fumettistici, che quelli più sporchi, meno lineari, come quando voglio l'effetto di un dipinto su tela o su carta. Ma lì ovviamente la differenza la farà poi il tipo di pennello che utilizzerai e anche la personale bravura. Fin qui tutto bene. Vado ora però sul tasto dolente di queste tipologie di tavolette. Vado ad indagare come si comporta con i tratteggi più rapidi, dove solitamente è lì che la tavoletta si mette a dura prova. Fantastico! Tutto scorre una meraviglia e soprattutto nessun ritardo a monitor. O almeno è impercettibile. Nessun fastidio, nessun rallentamento. Si disegna con scioltezza, senza nessun tipo di stanchezza muscolare o rigidità della mano, data dal fatto che comunque si disegna su tavoletta e si guarda il monitor. Quindi è un'esperienza meno diretta rispetto a disegnare su monitor. Se questa situazione tu non l'avessi mai provata, ti dico subito che ci si abitua dopo 5 minuti. Allora, a questo punto del video avrai già capito quale potrà essere il mio personale parere su questa tavoletta, la UG M708. Una tavoletta Basic Entry Level. Io la promuovo non solo per gli artisti agli esordi, ma anche ai più esperti. E non solo, anche a chi deve semplicemente comunicare o scrivere degli appunti. Infatti, questa tavoletta si presta pure bene ad eventuali annotazioni o scritture. Lo si fa in modo fluido e naturale, anche se lo scopo non dovesse essere il disegno. Quindi che dire, ero già pronta a fare una recensione che non andasse al di là della sufficienza, ma mi sono piacevolmente ricreduta. Ovviamente continuerò ad utilizzare tavolette con monitor e anzi, a questo punto sarei curiosa di provarne sempre una UG di livello superiore. Questa, promossa come tavoletta per tutte le tasche. A proposito di tasche, non è che la UG me ne regala una anche a me? Magari una di quelle col monitor? Per l'acquisto ad un prezzo scontato metto il link in descrizione. Ciao! Ciao!